E anche su due cuore e una k, Prime Day! Quando cerchi una ricetta, solo una formula è perfetta Se vuoi vivere con gusto, due cuore e una k, è il posto giusto Ciao a tutti e benvenuti qui nella nostra cucina virtuale Che cosa è? Una parata? Non è una parata, non è una televendita, anche se ci assomiglia tanto Ragazzi, oggi e domani E quindi, mountain bike con cambio Shimano, alto un centimetro E che ne so Quello è il fondo della pentola Ah, è alto il fondo della pentola No ragazzi, allora, oggi veniamo un attimo nelle vostre case Per ricordarvi che oggi, 15 luglio, e domani, 16 luglio, ci sono i Prime Day di Amazon Perché cosa sono? E voi direte, ma noi che ce ne frega? E potrebbe fregarvene Potrebbe Perché sto facendo una serie di video per tutti i canali, avendo saputo questa cosa e avendo visto le offerte Per segnalarvi le cose che sempre mi chiedete e che magari oggi hanno un prezzo particolarmente basso Non è un video spinto agli acquisti, mi raccomando E' un video segnalazione, sono due cose differenti E mi raccomando, questo è per tutti i clienti Amazon Prime Certo, chi non è cliente Amazon Prime può spegnere il video adesso A meno che non gioisca della faccia di Gabriele Bene, volevo semplicemente ricordarvi che oggi, oltre a una moltitudine di robot da cucina Che io non conosco, quindi non so consigliarvi Posso consigliarvi tre cose Chi rogge la cucina e fa, buongiorno Dai zitto che ho fredda Hai fredda? Allora, voglio consigliarvi tre cose che avete visto spessissimo su 2Q1K E quindi di cui noi ci fidiamo ciecamente e che vi vogliamo consigliare In super offerta c'è la macchinetta dolce gusto della De Longhi Non il modello base, il modello pro, però al costo di quella base Quindi appena l'ho vista ho detto, sono impazzita Devo farglielo vedere Vi mettiamo la foto E poi ci sono le selezioni di capsule originali dolce gusto A prezzi veramente, veramente convenientissimi Ma veramente convenientissimi Le stiamo prendendo anche noi per dirvi Quindi ve la volevamo segnalare L'avremmo presa anche noi, ma ce l'abbiamo già e l'abbiamo pagata a prezzo intero La KitchenAid, c'è una KitchenAid bellissima È la Classic, ha la brocca un po' più piccola della nostra Ma costa anche adesso 200 euro in meno del prezzo normale circa O anche 3, non mi ricordo Comunque è ad un prezzo veramente basso Se vi serve una planetaria buona la KitchenAid E vi piace anche E vi piace lo stile E vi piace il mood Adesso è in forte sconto Come vedete non vi sto consigliando qualunque cosa Perché quello che vi serve sapete voi cos'è Però vi sto segnalando le cose che noi conosciamo particolarmente bene E che adesso se vi servono, mi raccomando, sottolineato 100 volte Sono in super offerta Basta, vuoi dire qualcosa? Basta, quindi qua sotto vi lasciamo tutti i link di riferimento Mi raccomando iscrivetevi al canale E seguiteci anche sulla pagina Facebook Dove stiamo riproponendo tutte le ricette della storia di Due Cuori in a K Quindi se non ve le siete viste, se ve le siete perse Se volete ripassarvi, le trovate là Noi invece ci trovate sempre qui sulle vostre tavole No, vabbè Da Ombretta e da Gabriele è tutto Ciao, alla prossima Mi confondo sempre